Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Ce lo insegnano i Blues Brothers e i duri in questione, questa volta, sono i volontari della protezione civile, riferimento importante all'interno del nuovo hub vaccinale di Gallarate. Un centinaio gli uomini che si sono dati da fare in questi mesi e che continuano a farlo, da oggi anche offrendo assistenza all'interno del capannone destinato alle vaccinazioni, dove sono operative 30 linee. I volontari che sono stati impiegati in questa attività sono circa un centinaio e hanno operato fondamentalmente per tre fine settimana completi dal venerdì alla domenica. Supporto sicuramente dei volontari della protezione civile della provincia di Varese, attivati dal settore provinciale di Varese, chiaramente. Abbiamo coinvolto, come è doveroso dire, anche il Parco del Ticino, perché è stato un supporto fondamentale anche quello del Parco del Ticino con volontari e mezzi. Dopo l'inizio delle attività vaccinali con le poche linee che c'erano attive il giorno dell'inaugurazione, con oggi è iniziato anche il supporto della protezione civile provinciale, con cinque volontari per turno, dalle 8 della mattina alle 14 e dalle 14 alle 20, 7 giorni su 7. Ci siamo resi disponibili dietro un confronto con SST Valliolona, ATS e Regione Lombardia, perché chiaramente il supporto della protezione civile è un supporto fondamentale per le attività di protezione civile. Questa non è un'attività di protezione civile, ma stiamo dando un supporto alla campagna vaccinale. A rendere possibile tutto quello che è stato realizzato, il lavoro di squadra tra volontari e istituzioni, tutti in prima linea. È un supporto ai volontari di ATS e di ASST nel caso di qualunque necessità in termini di emergenza o piuttosto che di non ordinarietà che può essere gestita dal personale di ATS. La competenza dei volontari di protezione civile va un po' oltre quelle che sono le normali competenze dei volontari di ATS, quindi loro arrivano fino a un certo punto, per quanto riguarda una situazione emergenziale che potrebbe nascere di qualunque natura, colore o situazione, la protezione civile è pronta, è preparata e con cinque volontari al mattino e cinque al pomeriggio, dislocati nei vari punti strategici del lab vaccinale, procediamo ad una sorveglianza passiva. Abbiamo lavorato veramente in sinergia con parecche associazioni, devo dire che il risultato che si è ottenuto anche in brevissimo tempo è importante, è fondamentale ed è visibile a tutti noi. Come si vede e sanno tutti, nel momento in cui veniamo chiamati noi ci siamo, presenti e partecipiamo volentieri per costruire insieme ad altri quello che serve per il nostro territorio. Volevo sottolineare il grande lavoro che è stato fatto dal volontariato di protezione civile e per volontariato intendo il sistema provinciale di protezione civile, di cui noi come ingegneri facciamo parte. Voglio sottolineare che è stato molto interessante lavorare fianco a fianco con i militari, con i ingegneri del secondo pontieri e vedere i volontari ingegneri con i ingegneri dell'esercito lavorare insieme. Questa è stata una delle cose più belle perché finalmente abbiamo visto il sistema all'opera e se non facciamo sistema non possiamo arrivare da nessuna parte.